Ha un'importanza vitale, è un certificato di garanzia della nostra produzione, dei nostri prodotti che hanno una qualità che tutti ci riconoscono ma dobbiamo avere anche quella salubrità e l'Istituto Agrario, la Fondazione MAC ci garantisce questa garanzia e quindi abbiamo un plus in più per presentare i nostri prodotti al mercato italiano e internazionale. La convenzione prevede un'assistenza che poi non è un'assistenza, è una collaborazione con l'Istituto Agrario a 4.500 frutticoltori che lavorano sul territorio e che possono e che lavorano per avere un prodotto di qualità.